Ho deciso di dare grande spazio all'interno dello sportello del cittadino, allo sportello universo donna, perché si tratta di una battaglia di civiltà, una battaglia di crescita a favore ovviamente delle donne, considerando certi fenomeni davvero raccapriccianti, fenomeni di violenza che nel 2015 continuano ad essere perpetrati. Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'associazione Stella Maris, stiamo incontrando vari professionisti proprio per avere uno spaccato a 360 gradi dei vari soggetti che operano nel settore. Sì, oggi presentiamo la dottoressa Fabrizia Lodeserto, psicologa, che nello specifico tratterà proprio l'aspetto psicologico, della donna vittima di violenza. Dottoressa, lo deserto, Gianna Cavallo mi ha rubato il mestiere, quindi andiamo subito in medias res, andiamo a questi aspetti psicologici. Allora, noi in genere sentiamo spesso parlare di violenza fisica perpetuata sulla donna. In realtà questa costituisce solo la punta di un iceberg del potere, del controllo che vuole essere esercitato sulla donna da parte dell'uomo, in quanto in realtà è importante individuare dei segnali che sono alla base, che sono i precursori poi magari di una violenza fisica. Prima che arrivi il disastro, diciamo. Esatto, infatti inizialmente parliamo di violenza psicologica, che viene attuata attraverso frasi che vanno ad umiliare, a denigrare la donna. Una donna che poi naturalmente si sente umiliata proprio nella propria capacità, nelle proprie sicurezze, nella propria autostima. Subentra naturalmente poi la depressione, sintomi anche di ansia, che vanno a ridurre anche l'auto-efficacia della donna che non si sente più capace di far fronte alla situazione. Ecco perché nasce lo sportello. Lo sportello nasce perché attraverso poi un sostegno a 360 gradi dal punto di vista legale e psicologico cerchiamo di dare quella forza alla donna, cercare di evitare quell'isolamento che spesso la contraddistingue in questo periodo e farle capire che in realtà degli strumenti ci sono. E anche farle comprendere che è importante non giustificare dei comportamenti in quanto tanti momenti possono essere non considerati come molto gravi nei confronti della donna, nei confronti della famiglia ma in realtà sono anche quelli comportamenti tipici di una violenza psicologica.